Musica Strade dissestate nel Sulcis, i sindaci dell'Unione dei Comuni iscrivono al prefetto chiedendo un intervento immediato Carloforte, un provvedimento della giunta regionale permetterà un cospicuo sconto nel costo dei biglietti del traghetto fino a dicembre Disservizi della Asi, nei giorni scorsi è stato chiesto il pagamento del ticket anche per coloro che ne sono esenti Sindrome di Down, domani si terrà la sedicesima giornata nazionale dedicata a questa specifica condizione Buon sabato 7 ottobre a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro Tg Apriamo la prima parte parlando della lettera che i sindaci dell'Unione dei Comuni hanno spedito al prefetto per denunciare lo stato di dissesto nelle strade del Sulcis Sentiamo Il presidente dell'Unione del Sulcis, l'avvocato Gianfranco Trullu, sindaco di Perdagius, ha scritto a nome degli altri sindaci facenti parte del medesimo organismo Una lettera del prefetto nel quale è evidenziato il gravissimo stato di dissesto nel quale versano le strade provinciali 77, 78 e 80 e quella statale 293 Tale condizione, si legge nella lettera, pregiudica la percorribilità di tali bretelle e costituisce un grave pericolo per la salute degli automobilisti Secondo i sindaci è necessario dar seguito alla riunione svolta sin data 5 ottobre alla quale non ha partecipato la provincia del Sud Sardegna Convocando un incontro urgente presso la prefettura dove coinvolgere tutti i soggetti preposti interessati Tra cui la stessa provincia, la regione, l'ANAS e il coordinatore del piano Sulcis Affinché si possa divenire a un'immediata e non più improcrastinabile messa in sicurezza dei tratti di strada che oggi sono impraticabili Un disservizio dell'ASL nei giorni scorsi ha fatto sì che fosse richiesto il pagamento del ticket anche per gli utenti che ne sono esenti Vediamo Un disservizio interno alla gestione dei dati dei pazienti nella ASL del territorio ha generato non poca irritazione nei giorni scorsi Quando i pazienti che in passato hanno fatto ricorso al pronto soccorso con codice bianco e verde È stata spedita una lettera nella quale si è chiesto il pagamento del ticket anche per coloro che invece ne erano esenti Tale disservizio ha spiegato Carlo Murru, dirigente dell'ASL, ha origini vecchie ed è da debitarsi all'assenza di un sistema in grado di catalogare dettagliatamente i pazienti che hanno diritto all'esenzione rispetto agli altri In ogni caso hanno fatto sapere dall'azienda sanitaria chi ha l'esenzione non dovrà pagare e se il pagamento è stato già fatto si provvederà al rimborso della spesa Chi vorrà andare a Carloforte perlomeno fino a dicembre potrà ottenere un cospicuo sconto sul prezzo del biglietto Questo è il provvedimento che è stato introdotto dalla giunta regionale Vediamo I consiglieri regionali del centro-sinistra Luca Pizzuto e Pietro Cocco hanno espresso grande soddisfazione per l'entrata in vigore delle nuove tariffe scontate per Carloforte Infatti dal 6 ottobre scorso fino al 31 dicembre 2017 viggeranno nuove condizioni per i non residenti che vorranno viaggiare verso e dall'isola di Carloforte La promozione sarà valida nei weekend dalle 12 del venerdì fino a lunedì e permetterà di offrire sperimentalmente, ha spiegato Pizzuto, tariffe che si aggireranno sulle 3 euro andate a ritorno per passeggero e 12 euro per la macchina Un risultato che i due esponenti ritengono importantissimo e va ad evitato all'impegno e alla volontà dell'amministrazione regionale di rafforzare la continuità territoriale interna verso le isole minori Tali tariffe, importantissime per coloro che amano, vivono e vogliono frequentare Carloforte, si auspica, vengono estese per tutto l'anno Bentornati in studio, apriamo la seconda parte parlando delle ultime novità sulla vertenza al COA Vediamo Le organizzazioni sinacali di FSM, FIOM, Wilm e CUB hanno chiesto un incontro al presidente della regione, Francesco Pigliaru, per dibattere delle questioni di competenze regionali inerente all'avvertenza al COA Tra le quali le bonifiche delle faglie acquifere, il dragaggio del porto industriale, i cui lavori potrebbero essere posticipati di parecchi mesi e in particolare degli ammortizzatori sociali in scadenza per centinaia di ex lavoratori dello stabilimento Secondo le organizzazioni sinacali è importante tenere conto del legame tra la concessione degli ammortizzatori sociali e lo status di area di crisi industriale complessa riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico Perché grazie a questa particolare condizione sono state destinate importanti risorse economiche per il polo industriale di Portovesme I sinacati aumentano il pressing in attesa di essere ricevuti dal Ministro Calenda per ricevere i lumi sull'andamento dell'avvertenza e lo stato dell'arte della trattativa con Sidra Lois e con Glencore che ha presentato una nuova manifestazione di interesse per lo stabilimento Nei giorni scorsi Iglesias si è tenuta la presentazione del libro La Iglesias Sant'Angelo 1965-2013 Guardiamo le immagini realizzate dalla nostra Marzia Tornatore Si è tenuta nei giorni scorsi Iglesias nella sala blu del Centro Culturale di Via Cataneo la presentazione del libro La Iglesias Sant'Angelo 1965-2013 Il libro, scritto dal presidente del circolo sardo automoto d'epoca Nello Alfano, edito dalla casa editrice Serra, è un vero e proprio omaggio alla storica cronoscalata eglesiente e a tutti i suoi protagonisti Questa è stata la quinta opera dello scrittore e la terza dedicata a importanti e prestigiose gare automobilistiche Durante l'incontro al quale hanno partecipato e sono intervenuti anche il sindaco d'Iglesias Emilio Gariazzo, il vice sindaco Simone Franceschi, l'assessore allo sport Alessandro Piria e il segretario provinciale del Partito Democratico Daniele Reginali Alfano ha ricostruito con un'accurata ricerca tutte le 29 edizioni della gara senza dimenticare la famosa salita di Sant'Angelo svoltasi nel 1993 A proposito di ciò vi proponiamo uno scorcio del suo intervento La Iglesia Sant'Angelo è stata ed è una manifestazione automobilistica e dico è perché contrariamente ad altri libri che ritornano indietro negli anni La Iglesia Sant'Angelo in questo libro è viva, è tuttora una cosa che deve essere vissuta e deve vivere E ho apprezzato molto le parole del sindaco di Iglesias e dell'assessore che hanno manifestato la loro intenzione di riproporla quanto prima Lunedì prossimo Carbonia ospiterà un importante incontro per promuovere la cultura dell'imprenditorialità Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio Che uno dei maggiori deficit nel territorio del surgisiglesiente sia quello della capacità di esprimere un settore dell'imprenditorialità adeguato alle sfide che la crisi e anche il terzo millennio impongono è un dato di fatto acquisito da molto A proposito di ciò, anche per colmare questo debilitante gap per lunedì prossimo la società Evolvere Consulenza e Formazione ha organizzato un incontro pubblico a Carbonia sul tema del lavoro autonomo e della creazione di start-up e sulle questioni dell'orientamento, della formazione, della produttività e dell'innovazione Presenzierà il meeting che prenderà il via alle ore 16 nell'aula polifunzionale di Piazza Roma e sarà principalmente rivolto a una platea di uomini e donne disoccupati o inoccupati l'assessora ai servizi sociali Loredana Labarbera Inoltre, durante il convegno, oltre alla presentazione dei nuovi percorsi di accompagnamento dei giovani alla creazione di impresa e al lavoro autonomo in particolare nei settori del turismo, della cultura e dell'ICT sarà illustrato il programma operativo dei fondi di sviluppo europei per il 2014 e 2020 Bentornati in studio, apriamo la terza parte parlando di musica Il 22 ottobre prossimo, Villa Massarja ospiterà il famosissimo compositore Goran Bregovic Domenica 22 ottobre, Villa Massarja ospiterà nella suggestiva cornice del sito naturalistico del Sortumano in concomitanza con la Sagra delle Olive il concerto del famosissimo artista Goran Bregovic Bregovic, musicista e compositore bosniaco membro negli anni 90 durante la guerra dell'armata popolare jugoslava è diventato famoso al grande pubblico nel 1995 per aver realizzato la corona sonora del film Underground del regista serbo Emil Kusturica che grazie a quel film vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes ma sono stati anche altri successi prima e dopo quel premio che gli hanno permesso di entrare a pieno titolo nel pantheon dei più caratteristici musicisti e compositori europei e forse mondiali dell'epoca moderna la sua musica originaria dalle melodie zigane e slave è il risultato della fusione tra la musica polifonica dei Balcani con il tango e le bande di Ottoni il 12 ottobre prossimo Bugeru riproporrà dopo il successo dell'anno scorso la pedalata tra i sentieri dei minatori vediamo dopo le quasi 300 adesioni dell'anno scorso la Pro Rocco di Bugeru ha deciso di riproporre la pedalata tra i sentieri dei minatori l'evento arrivato alla quarta edizione organizzato nel territorio bugerraio per domenica 15 ottobre permetterà a tutti gli appassionati del settore di immergersi in un percorso costituito da montagne che degradano verso il mare in impervi e curviline quanto vecchi sentieri usati in antichità dai minatori un vero e proprio viaggio in bicicletta alla scoperta degli straordinari scorci naturalistici di Bugeru per rivivere la magia e la suggestione di tempi andati e per passare una giornata lontano dallo smog dalla vita sedentaria e dallo stress l'iscrizione costerà 10 euro e dovrà essere finalizzata entro e non oltre il 12 ottobre tramite i riferimenti postati nella pagina facebook dell'evento inoltre per chi vorrà parteciparvi e con un limite di 200 posti disponibili sarà previsto il pranzo con svariati menu dalla carne al pesce fino al vegano l'appuntamento sarà per le ore 7.30 di fronte ai locali comunali ex ba e la partenza prevista per le 9 domenica si terrà a Trattalias la sedicesima giornata nazionale delle persone con sindrome di Down vediamo si terrà domani domenica 7 ottobre a Trattalias la sedicesima giornata nazionale delle persone con sindrome di Down 2017 l'iniziativa organizzata dal sodalizio progetto 21 Onlus con il patrocinio del comune oltre a far conoscere l'impegno, le finalità e i progetti portati avanti dall'associazione per sensibilizzare la società sulle problematiche connesse a coloro che vivono direttamente e indirettamente la condizione dettata dalla sindrome di Down permetterà a tutti coloro che parteciperanno di immergersi nella suggestiva cornice del borgo antico di Trattalias assaggiando la squisita cioccolata solidale offerta per l'occasione a grandi e piccini che inoltre potranno svagarsi con i giochi gonfiabili il tutto all'insegna del divertimento e della solidarietà l'evento si protrarrà dalle 10 di mattina fino alle 18 di sera e sarà aperto a tutti il nostro telegiornale concluso a seguire andrà Noasa in corso a cura di Guido Cadoni grazie di averci seguito appuntamento alle prossime edizioni